Questo bel giovincello ero io due settimane fa. Non avrei avuto questo ghigno se avessi saputo che sarei uscito senza pesce. E questo sono sempre io una settimana fa. Avessi avvistato mezza pinna. Ma veniamo ad oggi. Il mare a Civitavecchia è in scaduta e l'acqua è piuttosto torbida. Questo sarago catturato in caduta è il primo a farne le spese. Dopo qualche tuffo mi si spalancano gli occhi. Ecco il testone di una grossa prata. Eh sì, proprio così. L'ho mancata. Con un tiro da pivellino poi. Devo assolutamente rifarmi. Ma ecco che finalmente arriva lei, la regina del basso fondo. è un po' di pesce fresco. Oh, finalmente stasera si mangia un po' di pesce fresco. Basta un bastoncini film. Alla prossima. E se non l'avete già fatto, guardatevi gli altri video racconti. Alla prossima. Ciao.